Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Allora io volevo iniziare un po' da alcune considerazioni che sono state fatte questa mattina da Paoli. Allora l'impianto di cui vi parlerò che è Mater Biotech che è uno degli impianti, l'ultimo impianto costruito da Novamont per la produzione di uno dei monomeri nasce appunto da una visione, la visione della dottoressa Bastioli che le cose potevano essere cambiate. Quindi produrre un intermedio dell'industria chimica che si chiama 1,4 butandiolo non più da fonte fossile ma da zuccheri oppure materiale di derivazione dalle scarti di biomasse. Quindi un'innovazione tecnologica sostanziosa. Nasce anche da una visione diversa, un modo diverso di pensare che è sostanzialmente il mio. Io vengo da un passato diciamo di industria farmaceutica quindi molto classica dove si pensava principalmente a fare soldi. Questo è il principio ma questa tecnologia che andrò a descrivere oggi è completamente innovativa, dimostra che il biologico può fare la differenza e questa è un'altra cosa che ritengo molto interessante. Quindi parlo un po' di Novamont. Novamont è un'azienda sostanzialmente che nasce circa 25-30 anni fa, nasce dal gruppo Montedison sostanzialmente. Dalla crisi di Montedison nasce il gruppo Novamont e sostanzialmente per quanto riguarda il gruppo ci sono una serie diciamo di colonne portanti. Sostanzialmente il gruppo Novamont difficilmente inizia a costruire siti nuovi da Greenfield ma normalmente reindustrializza siti deindustrializzati. Quindi cerca di utilizzare dei siti già esistenti con personale già esistente e li riporta sostanzialmente all'efficienza produttiva. Cosa che è accaduta per il sito di Bottrighe di cui dopo vi parlerò. Un'altra cosa è la forte integrazione con le filiere agroalimentari o soprattutto con la filiera agricola. L'Unterpaoli vi ha fatto vedere in precedenza un esempio che è quella dei semi del cardo. Novamont ha contribuito fortemente allo sviluppo della produzione di acido azelaico con l'apertura di un sito a Porto Torres con una joint venture con Universalis. Questa attività di produzione parte dall'olio di semi che viene generato dal cardo. Anche per quanto riguarda Mater Biotech l'approccio è il medesimo. Noi produciamo l'1,4 butandiolo a partire sostanzialmente da soluzioni zuccherine. Attualmente acquistiamo queste soluzioni zuccherine ma il passo già che stiamo facendo futuro è quello di generare queste fonti zuccherine da cellulosa oppure scarti di biomassa. Ovviamente l'integrazione completa è piuttosto complicata quindi l'attività la stiamo facendo sostanzialmente a step. L'altra cosa fondamentale è soluzioni uniche e sostenibili. Come voi sapete il nostro prodotto principale di cui andrò a parlare dopo è il Mater Biotech. Quindi la maggior parte delle sportine che vengono al giorno d'oggi vendute al supermercato o che forniscono i supermercati sono fatte con il nostro prodotto. Però noi non entriamo per esempio in tecnologie consolidate dove il riciclo funziona. Per esempio dove c'è una bottiglia di plastica e il riciclo funziona correttamente, Novamont non entra. Però dove effettivamente il prodotto potrebbe avere un impatto sostanzialmente ambientale come appunto nello specifico la sportina sicuramente Novamont entra con i suoi materiali. Qui un pochettino i numeri. Allora Novamont sino a appunto forse dieci anni fa non era un'azienda così tra virgolette nota come lo è attualmente. Noi attualmente generiamo un fatturato di circa 230 milioni di euro, abbiamo 600 persone che lavorano sostanzialmente per il gruppo e abbiamo quattro siti di produzione di cui Bottrighe è uno sostanzialmente di questi. Un altro numero molto interessante è questo qua. Novamont investe tantissimo in ricerca e sviluppo e questa è una cosa piuttosto particolare per un'azienda sostanzialmente italiana. Circa il 6% degli investimenti del nostro fatturato era investito sostanzialmente in ricerca e sviluppo e abbiamo circa il 24% del nostro personale che è interessato in attività di ricerca e sviluppo. Quindi è un'azienda fortemente orientata all'attività di innovazione. Infatti diciamo negli anni sono stati generati circa 1800 brevetti. Un'altra cosa, noi siamo un forte incubatore per i giovani. Prima abbiamo parlato diciamo di giovani, di innovazione, di modi diversi di pensare. Ok, negli anni sono stati attivati molte formazioni all'interno delle aziende che hanno portato allo sviluppo di ingegneri, biotecnologi, chimici che poi dopo alcuni sono rimasti in azienda, alcuni ovviamente si sono allontanati e hanno fatto altre esperienze. Però questo è un altro aspetto caratteristico di Novamont. Questi sono i nostri siti produttivi, più o meno qui vedete il nostro processo. Ci sono principalmente due siti di ricerca, uno in Nord Italia a Novara, dove abbiamo la casa madre, uno in Sud Italia, dove Novamont ha rivelato un sito di biotecnologie che precedentemente apparteneva al gruppo Sigma Tau. Poi ci sono i siti di produzione. Tipicamente in Centro Italia abbiamo i siti che si occupano della parte di polimerizzazione, mentre in Sardegna e in Veneto, come vedremo dopo, ci sono i siti che si occupano della parte della produzione del monomero. Qui vedete un po' la nostra catena produttiva. Novamont ha iniziato a produrre sostanzialmente il Mater B, che è il nostro polimero biodegradabile da amido complessato. E poi ha iniziato a back-integrare tutta la catena produttiva. Quindi mentre prima sostanzialmente comprava le varie componenti necessarie per fare il Mater B, negli anni, circa 10 anni, sostanzialmente ha iniziato a farsi i suoi monomeri. Infatti vedete qui che ci sono i due siti di produzione, che sono quelli appunto di Bottrighe e il sito appunto di Matrica a Porto Torres, che fanno i due monomeri che vengono utilizzati poi per la fase di polimerizzazione. Quindi in blu quello che vedete è storia già scritta, è storia attuale. Per quanto riguarda invece quello che faremo in futuro, è tutta questa parte in verde, quindi tutta l'integrazione sicuramente con la filiera agricola, sicuramente l'utilizzo appunto di scarti e di differenti appunto altre industrie per la produzione dei nostri monomeri. E anche questa è già realtà, perché per esempio nel nostro caso, già a partire da quest'anno, inizieremo a utilizzare zuccheri di seconda generazione provenienti appunto dalle amiderie, ok, in maniera dagli scarti delle amiderie, proprio per fare l'1,4 butandiolo. Quindi qua non mi soffermo ancora, quindi Mater B e il nostro prodotto si basa su due principi fondamentali, la rinnovabilità, quindi l'utilizzo di materie prime e rinnovabili, e poi la biodegradabilità e la compostabilità. Quindi la caratteristica del nostro prodotto, come vedete qua, è che il ciclo deve essere sostanzialmente chiuso, ok? Noi partiamo da materie prime di origine vegetale, generiamo i nostri biochemicals, ok? Li polimerizziamo, facciamo l'origobi e da questo origobi poi generiamo il Mater B. Questo Mater B viene poi ovviamente lavorato in maniera appunto diversa per farci diverse appunto cose, appunto asportine, piuttosto di pacciamatura e quant'altro. Questo materiale è compostabile, biodegradabile, torna al terreno e quindi il ciclo sostanzialmente si chiude. Quindi questa è una cosa reale, è una cosa che accade veramente. Ok, adesso vi parlo diciamo di Mater Biotech, ho 3-4 slide da chiudere per spiegarvi che cos'è questo impianto, ok? Questo impianto è un impianto di fermentazione, per questo sostanzialmente Novamont ha acquistato lo stabilimento di Mater Biotech, impianti di fermentazione in Italia di questa tipologia ce ne sono pochissimi, ok? Noi facciamo il prodotto che si chiama 1-4 Butandiolo, questo prodotto è un prodotto chimico di altissimo tonnellaggio, se ne producono circa 3 milioni di tonnellate all'anno in giro per il mondo, tutto di derivazione petrolchimica. Però il nostro prodotto è il primo prodotto fatto per via biotecnologica, è le stesse esatte caratteristiche di quello che viene normalmente commercializzato dalle grosse aziende, e diciamo chimiche e che lo fanno da petrolchimico. Deriva l'impianto, è un esempio appunto di rigenerazione industriale, esattamente una delle cose che vi ho detto precedentemente, è un esempio di collaborazione tra Novamont e un'azienda americana che si chiama Genomatica, perché è lo sviluppo del processo di fermentazione nello specifico del microorganismo, che converte, diciamo, gli zuccheri in 1-4 Butandiolo, è stato sviluppato appunto da Genomatica. Il progetto di riconversione, diciamo, il CAPEX per il progetto di riconversione è stato di circa 100 milioni di euro, e nel periodo, diciamo, di apice all'interno, diciamo, dell'azienda lavoravano circa 300 persone. Allo stato attuale, lo stabilimento è uno stabilimento che lavora a ciclo continuo dal 2016, con un numero di persone addette che sono di 77. Perché costruire questo impianto a bottrighe, ok? Allora, la prima cosa è la presenza di un impianto di fermentazione, che ci consentiva ovviamente di implementare questa nuova tecnologia. Per riqualificare sicuramente, diciamo, un'azienda è un territorio fortemente deindustrializzato, come quella della Delta del Po, ok? E sarebbe stato impensabile costruire, diciamo, un'azienda, diciamo, chimica all'interno appunto della zona del parco, diciamo, del Delta del Po. La presenza di personale qualificato, perché ovviamente l'azienda aveva messo in cassa integrazione, adesso dopo vi racconterò brevemente la storia, dal 2006 c'erano circa una ventina di persone che erano in cassa integrazione e che noi abbiamo sostanzialmente riqualificato e rinserito in azienda. E poi era anche un modo, diciamo, di dimostrare che anche l'Italia è in grado di fare un primo impianto al mondo. Perché un'altra cosa che non si dice, di cui io sono molto orgoglioso, è che di questi impianti ce n'è per adesso solo uno al mondo, che funziona in questo modo e che fa un prodotto esattamente uguale a quello di derivazione petrolchimica, ok? Infatti ci sono grosse multinazionali che in parte hanno acquistato il brevetto per gli Stati Uniti e per l'Asia e che stanno pensando se applicare la medesima tecnologia. Questa è velocemente la storia del sito, perché il sito è stato costruito a Bottrighi in passato, il sito è un sito piuttosto anziano, è stato costruito negli anni 60, perché in quello stabilimento veniva fatto il glutammato, perché questa è un po' anche la storia dell'integrazione. In passato in Italia c'erano tanti zuccherifici, gli zuccherifici sfruttavano molto bene sostanzialmente i loro sottoprodotti, ok? Il loro sottoprodotto era il melasso, con il melasso ci facevano il glutammato, quindi valorizzavano un loro sottoprodotto, ok? Gli zuccherifici, come voi molti sapete, sono stati chiusi appunto nel tempo. Lo stabilimento nell'anni 92 è stato acquistato da una multinazionale giapponese che si chiama Jinomoto, la quale ci ha fatto sino al 2006 la lisina, ma per problemi di costi energetici, perché questo è un altro problema di questi grossi impianti, ok? Sono i costi energetici e per questo noi abbiamo lavorato molto per la parte di efficientamento energetico dell'impianto, sostanzialmente Jinomoto ha chiuso. Nel 2012 Nova Montacquista l'impianto fa le primi test prova, nel 2014 sostanzialmente inizia l'attività di revamping dell'impianto stesso, che è durato due anni, sino al 2016, dove l'impianto è stato attivato. Allo stato attuale, diciamo, siamo a 70% della nostra capacità produttiva. Quindi, cosa abbiamo fatto in questo impianto? 40% dell'impianto è rimasto sostanzialmente l'esistente, 60% è stato completamente ristrutturato, ok? Quindi abbiamo messo macchine, equipment completamente nuovi. La maggior parte dei building, come farò a vedere un breve filmato, poi successivamente sono stati mantenuti, ok? Quindi abbiamo un'architettura, diciamo, industriale tipica degli anni 60, che al giorno d'oggi, tra virgolette, non si vede più. Abbiamo lavorato molto sull'efficienza energetica, di cui parlerò brevemente, sostanzialmente adesso, che è uno dei motivi di successo anche dello stabilimento, perché se avessimo utilizzato solo energia dalla rete, ok? lo stabilimento non sarebbe assolutamente stato efficiente. E poi, diciamo, abbiamo introdotto alcune sezioni, come quelle appunto di biodigestione, che ci consentono sostanzialmente di recuperare tutti, praticamente tutti, gli scarti che noi abbiamo a generare all'interno dello stabilimento. Da un punto di vista energetico, cosa abbiamo fatto? Sicuramente abbiamo lavorato, diciamo, installando motore di alta efficienza, lampade LED, inverter, dove possibile, ok? Ma soprattutto abbiamo installato un impianto di cogenerazione, che ci consente ovviamente di essere più efficienti da un punto di vista, diciamo, energetico, ok? E un impianto di biodigestione, dal quale generiamo biogas, per la produzione, appunto, poi dopo di vapore interno. E di questo ne parleremo, penso, anche oggi pomeriggio, ci sono un po' di relazioni, penso, interessanti. Allo stato attuale noi stiamo facendo un upgrading dello stesso impianto per convertire il nostro biogas in biometano ed emetterlo sostanzialmente in rete. Questo aumenta la redattività dello stabilimento e lo rende ovviamente molto più efficiente. Tutto questo cosa ci comporta? Che il nostro impatto in termini di CO2, qui ne parlevamo precedentemente, è nettamente più basso di un impianto petrochimico. Parliamo di circa una riduzione di 16.000 tonnellate anno, appunto, di CO2. E qui, magari a volte, se parliamo ingegneri, però, diciamo, parliamo di grandi soldi da una parte, ovviamente l'impatto ambientale è nettamente più basso di un impianto chimico. Ecco, qui sono le ultime due slide, quindi, per finire, questo è un po' il processo di produzione. Quindi, intanto, l'1.4 butandiolo non viene utilizzato solo per la produzione di bioplastiche, ma viene utilizzato per molte delle cose, è una commodity, quindi, suoli delle scarpe, piuttosto che nell'automotive, piuttosto che i cover dei cellulari sono, o è un, diciamo, primer per processi di polimerizzazione. Quindi, da questo prodotto si possono fare, comunque, altri prodotti chimici a minore impatto ambientale. Anche questo è un ulteriore, diciamo, vantaggio del nostro prodotto. Il processo, diciamo, è diviso in due step, una parte, diciamo, upstream, costituita principalmente dalla fermentazione, ok, e una parte, poi, di purificazione, che è costituita da una serie, appunto, di filtrazioni e poi di un processo di distillazione. Come vedete, qui, la biomassa e tutti i retentati dei sistemi, appunto, di filtrazione vengono recuperati per fare, poi, il biogas. Ecco, qui, per vedere qual è il risultato, insomma. Ecco, qui, per vedere qual è il risultato, insomma. Bene, io ho finito e vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.